cari amici buongiorno spero che vediate il bel cielo azzurro senza neanche una nuvola alle mie spalle e in effetti anche se siamo in piena pieno coronavirus il futuro è roseo vi do questa bellissima anticipazione il futuro è roseo siamo in un collo di bottiglia dovremo lottare stringere i denti per un mese due ma il futuro è roseo e ieri ne abbiamo avuto una grande conferma ieri è una data storica naturalmente non ce lo dice nessuno ma sabato 14 marzo 2020 è una data importantissima donald trump ha twittato donald trump ha twittato gli usa amano il popolo italiano amano l'italia non ricordo esattamente l'espressione ma il senso è questo è una bella fotografia delle nostre frecce tricolori orgoglio nazionale italiano anche putin a stretto giro di posta a distanza di poche ore di una manciata di ore e notate anche questa coincidenza temporale non è assolutamente secondaria si siede al pianoforte e suona l'inno nazionale italiano e poi commenta con qualche parola al microfono ci dimostra la sua solidarietà e quella del popolo russo questi sono messaggi che confermano quanto avevo già detto in un video precedente che non trovate su youtube ma che trovate sul mio profilo facebook andando un pochino indietro intitolato trump li schiaccerà come vermi dove appunto essere schiacciati come vermi sarà acquisgrana saranno merkel e macron e ieri abbiamo avuto la conferma ulteriore ulteriore se ce n'era ancora bisogno che trump e putin sono in sintonia che entrambi vogliono schiacciare questa unione questa europa malata schifosa costruita malissimo piena di difetti che in realtà rappresenta solo gli interessi e fa solo gli interessi degli dei tedeschi e dei francesi punto e basta e e questo appunto ieri abbiamo un ulteriore conferma trump e putin sono in piena sintonia e quindi smettetela di dire che queste manovre che verranno queste esercitazioni che verranno fatte fra breve in nell'europa orientale sono per minacciare la russia assolutamente no sono per